bentornati 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 sul canale gestiamo il video dopo la conferenza stampa di mister simone inzaghi e di e di ian zommer ma parleremo soprattutto le parole chiaramente di inzaghi e di quella che può essere la formazione di domani visto che siamo alla vigilia di manchester city inter si torna in champions league nuovo format inaugurato oggi sto registrando durante l'intervallo di milan liverpool quindi ancora non ho tutto il quadro della situazione anche perché non sono riuscito fino a non conoscere gli altri risultati a parte mi sono fermato sul 2 a 0 il bayern monaco e poi chiaramente sono dei risultati di delle partite della 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 tarda nel tardo pomeriggio la juve che esordito battendo il pes v 3 a 1 e la stone villa che è andata a vincere sul campo lo young boys peraltro uno delle uno degli otto avversari dell'inter lo young boys dicevo quindi il riepilogo della prima giornata di questo nuovo format ci sarà in un video successivo il tempo materiale insomma di recuperare tutte le partite di oggi parliamo delle parole di inzaghi conferenze di inzaghi rodri guardiola e sommer chiaramente molto molto sereno clima molto sereno è un percorso talmente tanto lungo che questa prima partita non viene sentita come big match allora io voglio essere chiaro è un format sicuramente stimolante è un format che dà la possibilità a tante big di incrociarsi subito nella primissima fase ma è anche vero che questa prima fase è talmente lunga tanta che finisce nel 2025 addirittura perché due giornate si giocheranno scusate ma è ancora ancora questo questa questa robetta alcune partite appunto due le ultime giornate la settima e l'ottava si giocheranno nel nel gennaio 2025 ecco è talmente tanto lungo il percorso che questa partita non la avverti come un vero e proprio big match cioè se l'idea era quella di far incontrare subito grandi squadre per dare più fascia alla manifestazione sì ma anche no è inutile possiamo girarci intorno quanto vogliamo ma il girone fino all'anno scorso il gironone di quest'anno e gli scontri diretti sono due robe diverse no le le partite durante un girone non saranno mai non saranno mai il fascino di quelle negli scontri diretti stava sandir però visto che ogni volta ci ripropinano sta storiella che grandi partite le big che si scontrano match sì è vero ma non c'è quel fascino ma non perché manchi il fascino così aleatorio ma perché è proprio una questione di punti nel senso tu hai domani nel city poi altre sette partite se ne passano puoi arrivare diciamo diciamo l'ottimo sarebbe entrare tra le prime otto ma il grosso dell'obiettivo per squadre outsider come l'inter come la juve come il milan e altri è comunque rientrare nei playoff diciamo no quindi sì va bene dice poi nel tabellone più in basso arrivi più a frutti di una forte e poi quindi allora facciamo un discorso economico ogni turno so soldi in più ok se facciamo un discorso sportivo non becchi il real agli ottavi o becchi i quarti becchi cioè non è che mi sembra tutto molto costruito chi ha tanta chiacchiera sostanza cambia poco dal punto di vista di fascino eccetera eccetera è più divertente è bello così ok però non lo so non lo so non lo so non lo so non mi convince pienamente ci sono dei pro sicuramente ma io vedo ancora tanti contro in questo format quindi anche la conferenza anche l'attesa sì c'è attesa di intercity anzi di siti inter ma non è quell'attesa spasmodica no di di un confronto diretto e uno dice vabbè stai a scupire l'acqua calda e ho capito se però per mesi te la vendono come guarda che poi grandi partite no cioè io quello contrasto comunque di marco out lo sapevamo insomma l'obiettivo è recuperarlo per il derby anche se non è così scontato da quello che che mi arriva e va andrà gestito vediamo insomma vediamo 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 al momento le soluzioni ci sono quindi non è quello il problema il problema semmai se dovesse arrivare a mancare ancora poi carità li puoi adattare più di un di un giocatore e quindi di marco correa e palasios sappiamo di non far parte della lista buchanan è ancora ai box manca anche arnatovich ha avuto un attacco febbrile dunque non sarà della partita questo ironie a parte rende l'attacco dell'inter particolarmente povero perché consta di tiuram poi daremi e un lautaro non proprio in grandissima condizione difeso a spada tratta chiaramente da inzaghi in conferenza stampa tutto lascia pensare che la cosa ancora la tula quindi tiuram con lautaro con daremi unico attaccante di riserva rispetto al monza tornano i big tornano quelli che col monza avevano erano rimasti fuori quindi i vari bastoni acerbi in difesa e barella eccetera la centrocampo adesso dovrebbe partire invece denzel dunfriss reduce dal gol del pari appunto di monza reduce da un buon percorso fatto in in questa in questa in questa stagione con la nazionale con l'inter pochi pochi minuti conferma chiaramente per miglietarian conferma in questo caso per carlos augusto ma non come braccetto perché appunto torna bastoni ma come laterale sinistro e lì sono rimaste loro due perché palasios non è leggibile in champions league in quanto non fa parte della lista dukenne non c'è e di marco non c'è quindi sono rimasti due per due posti da quelle parti poi è chiaro c'è darmiana che si può adattare sia come braccetto come laterale come quinto va benissimo diciamo di ruolo sono rimasti quei due e si riproporrà il duello acerbi a land e vediamo un po il siti come si schiera dovrebbe essere un 4 2 3 1 dovrebbero scendere in campo ben 10 undicesimi dall'inizio della formazione iniziale della famosa finale di istanbul di due anni fa quindi ederson ederson tra i pali difesa titolare in mezzo con diash e a kanji adesso a walker a sinistra guardiol che è l'unica l'unica mutazione rispetto alla squadra che vinse la champions in finale perché lì giocò stonze in quella visionario 3 2 4 1 vi ricorderete no stonze giocava mediano a centrocampo di un due anni in vantaggio su kovacic insieme a rodri poi il trio alle spalle di a land che sarà formato da graylish a sinistra bernardo silva a destra e de brown centralmente poi sappiamo quelli del di guardiola si muovono in ogni in ogni dove due assenti nel nel siti che sono bob il giovane bob purtroppo si è fatto male seriamente in inizio stagione e a che che si è fatto male invece con gli impegni della nazionale dei paesi bassi dei paesi bassi questa è questa la presentazione della partita chiaramente zagra avrà a disposizione non solo taremi ci saranno frattesi aslani per quanto riguarda il centrocampo e ovviamente anche pietro celinski e in difesa bisec e e defray oltre ovviamente a darmian pronti no champions qualcuno forse se ne accorde qualche video che c'è già il nuovo la pallonella champions vediamo vediamo sarà credo una partita credo aperta spero di no ma credo sarà sarà aperta importante importante sarà per l'inter avere dei degli attaccanti in palla perché avrà le occasioni l'inter secondo me avranno gli spazi e lì bisognerà essere famelici non bisognerà guardare in faccia a nessuno poco ma sicuro saluto grazie